Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il città di Avellino ha ufficializzato l'arrivo di mister Franco Iannuzzi in panchina. L'esperto allenatore ex Sant'Ommase Declanese dovrà traghettare la società alla conquista della salvezza nel massimo campionato regionale. Dopo Luigi 5 e Mario Gagliardo arriveranno i difensori De Feo e De Vita dall'FC Avellino. Quest'ultimo, Classo 2001, ha avuto anche diverse offerte ma ha deciso di proseguire il suo percorso con i vecchi componenti della società avellinese. Secondo indiscrezioni emerse in queste ore, il club del trio Colarusso Casale Gallucci avrebbe messo gli occhi su Gianni Nota, vecchia conoscenza del calcerpino, calciatore che ha indossato le maglie di Serino e De Feo e Ciavellino. Gianni Caliano invece, ex attaccante esterno del Serino, resterà ancora con l'azione cattolica piano. Rolando Carullo invece sarà il nuovo allenatore del Bonito, la S di Taurasi sarà invece allenata da Fiore Cappuccio che lo scorso anno ha guidato le clanese in eccellenza nella seconda parte della stagione. Carmine Nunziante, ex Riz Laserino, è un nuovo attaccante dell'ambizioso Parca Quilone.